... ... ... ... Secondo quanto disposto dal comando d'occupazione in Grecia, gli ausiliari del reggio esercito godranno di una paga giornaliera di lire 4, del rancio regolare della truppa e della possibilità di acquistare quanto stabilito presso lo spaccio del proprio reparto. Ma voi che cosa trasportate? Reclute per i bordelli militari. E il soldato italiano sopporta tutte le privazioni ma quella no. Senti un po' coso, e che tu mi dai se te ne scendo una che è ancora in tante, come l'ha fatta la sua mamma, Arbacio. Buonasera, bellezza. Accomodatevi, ufficiale. Piero di donne, ragazzi. Per noi questa sera o domani è la stessa cosa, ma una di noi ha la sifilis. Stiano comodi, stiano comodi. Qui non ci sono né superiori né inferiori. Qui siamo tutti porci, signori ufficiali. Dimmi un po' perché ti piaccia. Dimmelo. E dimmelo perché ti piaccia, avanti. Su. Aprite, ragazzi. Ispezione del comando tappa. Niente paura, bellezza. Aprite. Siamo giovani dalle belle speranze. Ho fame, sono qui solo perché ho fame. Io ho fame e questi mi danno da mangiare. Hai capito? Eftichia, che fai? Fermati, sei pazza. No, non posso, lo devo ammazzare, lo devo ammazzare. Anche tu, anche tu, sei come lui. Eftichia, che fai? 생각이 ira... Grazie a tutti.